Ciao a tutti ragazzi sono Luke come potete vedere dal video precedente la infermiera si è messo a posto se si è messo nella sua casettina ora 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 no palle prendiamo un po' tutte le cose prese dal video precedente facciamo le fiacco ecco ora vediamo se il mercante si stick tanto stick 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 buono st direi che scogliò rumbo ormai il rame è un materiale inutile per noi, non ci servirà più a niente scusate che guardi un attimo una cosa ok scusate che ora perché ha cambiato ancora l'olimunità scusate per questi continui interruzioni è che aspettate un attimo ma perché il mio tasto di bandicam, l'ho capito, il mio tasto di bandicam per... oh no aspetta, aspetta, aspettate scusate adesso riesco un attimo e ritorno scusate che sto avendo dei problemi tecnici, aspettate ecco qua finalmente sistemato è che i tasti di terraria si sopra... si sovrapponevano a quelli di... a quelli di bandicam per stoppare... così... queste robe... quindi che caesce c'è? va bene... mmm... una berella grotticcuella è questa questo video non dirà molto perché dopo devo andare a mangiare quindi... perché ho la partita di calcio quindi... dovevo mangiare prima mangiare prima, mangiare mangiare prima and... all'indipendolo anche la bandiera... non... 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 l'uomo 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 e l'uso me l'uso l'usci e sci acqua usci e sci acqua brava brava tutta 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 oh ma che bello non c'è un caeser tutto questo spreco di energie per niente però è bello far uscire l'acqua caeser uuuh non 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 suuuu 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 una pietra preziosa che non ho mai trovato in questo gioco è il diamante mai e sti ci servirà ad esempio per fare l'armatura di però non ho mai trovato se lo troverò l'uomo scuola perdono un po' il tt e ok 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 dai scendi cazzo cazzo ecco ahhh vabbè almeno scenderà l'acqua per tutto il giorno e direi che per questo video è tutto e ciao ciao